Continua a far discutere il provvedimento della dirigente della scuola media Dante Alighieri di Castiglio in Fiorentino. I genitori non si rassegnano all'idea di dover quotidianamente arrivare di fronte al portone della scuola per andare a prendere i loro figli. E qualcuno ha deciso anche di ricorrere alle vie legali. A seguire il caso c'è l'avvocato Domenico Nucci. Sappiamo che l'avvocatura dello Stato non è legge, grazie a Dio. In più minaccia con quel provvedimento che ho qui davanti il ricorso proprio addirittura all'abbandono dei figli minori e delle persone incapaci. Come si fa a emettere un provvedimento minacciando addirittura che se il genitore non va a prendere il figlio venga denunciato per abbandonare i minori. E' un provvedimento incredibile. In più è diseducativo perché crea i bamboccioni. E l'avvocato non usa mezzi termini. Se il provvedimento non sarà rivisto potrebbero scattare anche denunce più serie. Se lei trattiene i bambini, i ragazzi a scuola commette reato. Se li trattieni o è sequestro di persona o è violenza privata. L'articolo 610 è il contrario di quello che dice lei. E' l'ora di finirla. Si informi presso il ministro della pubblica istruzione e emetta dei provvedimenti di revoca di quella disposizione.